Qualche volta la matematica dà i numeri, sì sì, qualche volta la matematica dà i numeri, cioè la matematica diventa un'opinione, forse ci resterà tanto male il matematico Pier Giorgio Di Fredi, ma il professor Gilberto Corbellini, che insegna storia della medicina alla Sapienza di Roma, la pensa proprio così, perché il professor Gilberto Corbellini ha ora pubblicato un preciatissimo articolo su Il Sole 24 Ore, Il Sole 24 Ore del 7 aprile 2020, Il Sole 24 Ore è un giornalissimo, è un quotidiano molto serio, non dirà ma fake news, io questo articolo del professor Gilberto Corbellini ve lo metto come link riassunto di questo video, affinché voi lo possiate leggere nella sua interezza e fare le vostre personali considerazioni come sto facendo ora io, e io sono Serafino Massoni, autore di questa opera storico-mitologica che va a ruba nelle librerie, prima andava a ruba nelle librerie terrestri, ma ora che le librerie terrestri sono state chiuse, va a ruba nelle librerie online, bene bene, ma vediamo di cui si tratta, in questo preciato articolo, apparso sul Sole 24 Ore del 7 aprile 2020, cioè ora, Gilberto Corbellini dice che talvolta la matematica dà i numeri, dai numeri, dai numeri, io, il professor Gilberto Corbellini lo conosco da poco, da poco, mi pare che ieri, ieri, gli ho dedicato un altro video, perché egli ci ha spiegato, Gilberto Corbellini, che insegna storia della medicina all'Università della Sapienza di Roma, ci ha spiegato che tu, è inutile che tu fai un vaccino, perché i virus cambiano in continuazione, quando tu hai preparato un vaccino contro quel virus, quel virus è già cambiato, è già cambiato, si dice così, ma anche così con i vaccini anti-influenzali, è la normalissima influenza, te lo dicono, è che il vaccino ti copre, che so, al 70-75%, perché mentre il vaccino veniva preparato sulla base del virus influenzale di prima, intanto il virus influenzale di prima è già cambiato, e quando arriva il nuovo virus, il vaccino che è stato preparato non copre più, non ti immunizza più al 100%, perché il virus è già modificato, fanno presto a cambiarsi i virus. Beh, Gilberto Corbellini dice che spesso e volentieri, la matematica dai numeri, ma io senza conoscere il professor Gilberto Corbellini, ormai sono due mesi che dedico dei video al coronavirus, al Covid-19, dicendo le stesse cose, le stesse cose dal professor Gilberto Corbellini. Beh, allora io vi lascio, nel riassunto di questo video, vi lascio il pregiato articolo del professor Gilberto Corbellini, e poi vi lascio anche un grafico con i dati dell'Istat, i dati dell'Istat, non i dati della protezione civile, i dati dell'Istat, dell'Istat, capito? E chi ha orecchie per intendere, intenda, a buon intenditore, poche parole. Ok, cari amici, ma la cosa migliore che voi possiate fare in questo momento è quello di fare un click e di comprare subito una coppia di quest'opera da una pregiata libreria online. Ok, cari amici, a tutti, tanti cari saluti da Serafino Massolini, ah, tanti cari saluti pure al professor Pio Giorgio Odifreddi, e vorrei tanto che il professor Pio Giorgio Odifreddi dicesse qualcosa relativamente al professor Gilberto Corbellini, il quale ha scritto che qualche volta la matematica dà i numeri. Ok, ok, ok!